Buongiorno a tutti e bentrovati ancora una volta nel canale Arte Allegra. Quest'oggi per le nostre idee natalizie realizziamo degli alberelli con delle pigne. La prima cosa che dovete fare è procurarvi delle pigne. Pulitele con un pennello asciutto da eventuale polvere. Dopodiché posizionateli sopra dei fogli di carta del giornale, quindi colorateli con lo spray acrilico. Date possibilmente più di una mano affinché il colore vi potrà soddisfare. Lasciateli asciugare. Una volta che sono perfettamente asciutti vi dovete procurare dei glitter colorati. Nel mio caso io ho utilizzato quelli rossi, quelli agendati e quelli dorati. Della colla vinilica, acqua e un pennello. Mescolate la colla con poca acqua e con un pennello passatelo tutto attorno alla pigna, cercando di impregnare il più possibile. A questo punto, che ancora è umido, prendete i glitter colorati e fateli cadere sulle pigne. fateli asciugare perfettamente. Nel frattempo, prendete dei vasetti. Nel mio caso io ho utilizzato dei vecchi vasetti di plastica. li ho tinteggiati, sempre con uno spray acrilico giallo, in modo da rinnovarli. Li ho lasciati asciugare e a questo punto, con un poco di colla a caldo, ho fatto aderire del muschio sintetico e quindi ho appiccicato le pigne. Mi sono procurata delle stelline, che io ho colorato anch'esse gialle, e delle piccole palline di vari colori, che ho appiccicato nei miei alberelli per dare un tocco di colore variopinto. Ed ecco i nostri alberelli di Natale pronti. Che dite non è simpatico? Che dite questa idea per questo Natale? Spero che vi sia piaciuta. Come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, non esitate a contattarmi attraverso la mia pagina Facebook, di cui lascio il link. Noi ci vediamo con una nuova idea natalizia, come sempre, nel canale Arti Allegra. Ciao e una buona giornata a tutti! Ciao e una buona giornata a tutti! Grazie a tutti!